un gruppo di cinque prigionieri fuggiti dall'assedio di richmond nella guerra di secessione americana su pallone aereo statico naufragono su di un'isola vulcanica all'apparenza deserta e decidono di chiamarla l'isola link il gruppo con l'aiuto del geniale ingegnere smith in grado di mantenersi sull'isola producendo di tutto fuoco mattoni ceramiche ferro e nitroglicerina